Musica Sulle note di Fredda e Palma si chiude la quinta tappa di Scuola Futura Campus. Ma vediamo insieme cosa è successo in questi giorni a Palermo. Musica Ospitati da alcuni dei luoghi più suggestivi, circondati da laboratori artistici e musicali, gli studenti hanno esplorato le coste della città arcipelago, partecipando a moltissimi laboratori. Tra questi, l'analisi dei dati di prestazione delle canoie, lo studio delle lingue e delle culture, le strade del cibo e il teatro di figura. Si sono immersi nell'analisi dell'arcipelago italiano e nel mondo della blu economy. Musica Anche i più piccoli hanno potuto cimentarsi nell'arcipelago della fantasia, divertendosi, imparando e condividendo. Infine, i docenti e i dirigenti scolastici hanno preso parte a percorsi formativi e workshop sulla didattica innovativa. A raccontarvi tutto ci abbiamo pensato noi, il MediArago, e l'abbiamo fatto immortalando i momenti più belli ed emozionanti di questo incredibile percorso. Musica 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 Musica